I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Toti, Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti, in una interrogazione scritta, visto che ieri, 21 novembre, ricorreva la giornata italiana dell'albero, è considerato che con la legge numero 113 del 1992, che ha lo scopo di incrementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento, i comuni italiani con la popolazione superiore ai 15.000 abitanti devono provvedere entro 12 mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale e, visto che da pochi giorni è stato nominato con delega alla transizione ecologica un neoassessore, chiedono all'amministrazione comunale di portare a loro conoscenza e alla popolazione nissena quanti alberi sono stati piantumati dall'inizio di questa legislatura in rapporto ai nati registrati in anagrafe del comune di Caltanissetta dal 2019 ad oggi e di avere condezza di eventuali iniziative già calentarizzate a sostegno della problematica ambientale e di una dignitosa campagna di sensibilizzazione nelle scuole e tra i giovani cittadini. Visto che ieri era il 21 novembre ed era la giornata nazionale dell'albero, che esiste già una legge, ed è addirittura nel 1992 la numero 113, che impone ai comuni che hanno più di 15.000 abitanti di piantumare un albero in relazione al neonato residente, iscritto ovviamente all'anagrafe del comune stesso. Vogliamo delle certezze. Proprio per questo chiediamo dal 2019 ad oggi cosa è stato fatto in relazione a questa legge.